Mi trovo a Montecorice, più precisamente presso la frazione Agnone, sto per incontrare ed è qui con me il vice sindaco di Montecorice, Pasquale Tarallo. Come il vostro comune si è organizzato in base alle direttive regionali e quindi le tante attività commerciali che hanno aperto e che stanno per aprire. Fase 2 ormai quasi volge al termine, siamo già proiettati nella fase 3, ieri De Luca ha emesso quest'ordinanza che riguarda la balneazione molto attesa, attendiamo ancora la disciplina per quanto riguarda gli affitti delle case, delle strutture non alberghiere. Noi siamo già a lavoro da tempo sulle possibili soluzioni, soprattutto di gestione della spiaggia, penso che settimana prossima daremo tra lunedì e martedì le nostre direttive per quanto riguarda la fruizione della spiaggia. Sarà un po' più lungo l'operatività perché è stato richiesto un vero e proprio piano, ieri c'è stata l'ordinanza quindi ci sarà penso una decina di giorni almeno per elaborarlo e renderlo ufficiale. Per quanto riguarda invece le aperture delle attività a Montecorice Comune e a Dagnone in particolare, i miei colleghi sono quasi tutti aperti, dico i miei colleghi perché anche io sono ristoratore, ma mi sono preso un'altra settimana di tempo per vedere un attimo come vanno le cose, ma soprattutto per organizzarmi al meglio e anche per essere presente e di supporto a chi in questo momento ha deciso di aprire. Le difficoltà sono tante, le incertezze anche, c'è molta confusione sulle regole, può capitare. Oggi ho saputo che la Guardia di Finanza ha fatto un giro e sono contento e orgoglioso che i miei colleghi si siano fatti trovare pronti, infatti non hanno contestato nulla, hanno dato qualche suggerimento e spero che questo sia l'atteggiamento che avranno le forze dell'ordine che insieme a noi amministrazioni di supporto a chi dopo tanto tempo si riavvia con tantissime difficoltà, tantissime incertezze e tantissime anche paure, però con l'ottimismo di affrontare una stagione buona e positiva. I comuni si devono dotare di questo piano per le spiagge libere che disciplina la sicurezza e le norme di accesso e per la fruizione. Io penso che quest'anno purtroppo sicuramente sarà un'estate diversa, penso che uno deve cogliere l'occasione nelle mille difficoltà di lavorare su migliorare l'offerta e migliorare la qualità. Non vogliamo lasciare nessuno indietro, per questo spesso ho richiamato in alcune mie interviste e in alcuni miei post su Facebook l'istituzione definitiva dell'Ezea. Noi siamo nel parco, le zone economiche e ambientali secondo me sono una grandissima opportunità precedente all'emergenza, ma che ci può dare una grandissima mano. Nel decreto rilancio sono previste anche delle somme dedicate all'Ezea e quindi in questo momento mi sento anche di fare un appello affinché vengano finalmente istituite perché mancano i decreti attuativi. Questo perché è vero che c'è tutto un settore che ha investito e da imprenditori hanno migliorato i servizi, però è vero che dobbiamo confrontarci anche con la realtà fatta di tante persone che hanno le case e che le affittano. Quindi secondo me deve essere questa l'occasione per metterci tutti quanti in regola e capire che dare un servizio in più migliorerà la qualità del turismo e dell'accoglienza.